Quasi solo, la rassegna di danza contemporanea e teatro fisico, organizzata da Danzarte, inaugura la sua edizione 2011 nella splendida cornice del Cinema Nuovo Eden. Tra vino, castagne e musica, la prima serata è interamente dedicata alla Strada Festival, per celebrare i quattro anni di vita dell'evento cittadino tra i più attesi dei Bresciani. Tra i documentari di Danzarte proiettati in sala, le installazioni video dentro e fuori il cinema, le fotografie sulle pareti e i monitor, la serata è un'occasione per riguardare indietro e per proiettarsi all'edizione del 2012. Tutto rigorosamente in musica e in compagnia degli amici del festival che sono accorsi per condividere una serata di festa assieme. E così la prima serata della rassegna si trasforma quasi in una festa per esorcizzare l'inverno, danzando e ballando rigorosamente per strada e aspettando i prossimi appuntamenti di danza e teatro con quasi solo. Grazie.